Ragazzi buongiorno e bentornati sul canale di Umberto Minetto, oggi parliamo di esercizi di isolamento nel bodybuilding. Mi raccomando come sempre se siete alle prime armi sul mio canale bisogna sempre spolliciare, non costa nulla, a me fa piacere perché mi fa percepire un po' che i contenuti che vado a mettere siano di vostro gradimento. Esercizi di isolamento, ecco la parola isolamento tra virgolette inganna un po' perché la terminologia giusta nel mondo dell'allenamento di muscolazione sono esercizi complementari. Abbiamo due tipologie di suddivisione di questi esercizi, esercizi fondamentali e complementari oppure anche esercizi multiarticolari che sono quelli fondamentali, quelli complementari che generalmente sono monoarticolari e vengono per questo motivo definiti di isolamento. Però ecco non c'è un isolamento muscolare, non è che se fate quell'esercizio interverrà solo questo il muscolo in questione, esempio sto pensando al CARL, eser classico esercizio, pancascotte esercizio di isolamento per i bicipiti ma è più giusto definire esercizio complementare. Esercizio complementare ovviamente ci sono tutta una serie di muscoli che intervengono, esempio tutti gli stabilizzatori che stabilizzano per permettere questa gestualità. Questi esercizi, la domanda che mi avete fatto, sono importanti? Bisogna farli? Bisogna evitarli? Eccetera, eccetera, eccetera. Allora qua si apre un mondo, ci sono correnti di pensiero in cui la maggior parte degli esperti, dei tecnici che si occupano di allenamento dicono che cosa? Che la priorità è riversata sugli esercizi multiarticolari, sugli esercizi fondamentali. Anch'io mi sento di dire che questi esercizi sono veramente la base del nostro allenamento e devono essere presenti sempre. Però è anche vero che anche a me personalmente piace ogni tanto inserire i complementari. Generalmente i complementari vengono inseriti a seguito delle esercitazioni con i fondamentali e possono essere un aiuto per andare a colpire determinati angoli di lavoro o comunque alcuni muscoli che magari rispondono meno agli altri esercizi fondamentali che abbiamo praticato. Ecco, di per sé, come dice il nome stesso, non sono fondamentali questi esercizi, però possono andare ad arricchire il nostro allenamento e in particolar modo possono andare a personalizzare il nostro allenamento. Ognuno di noi è diverso. Se è vero che ognuno di noi è diverso ed è vero che comunque questi esercizi fondamentali, anche se siamo diversi, rientrano talmente bene nello schema di movimento dell'uomo che vanno fatti, è anche vero che ognuno di noi potrebbe notare una carenza muscolare piuttosto che un'altra e nulla vieta di provare a inserire questi esercizi di isolamento all'interno del vostro protocollo d'allenamento. Esercizi per eccellenza sono quelli per le braccia, quelli per il treno inferiore, anche esercizi classici come le alzate laterali sono un esercizio di isolamento per la spalla. Ci possono stare. Il mondo dell'allenamento secondo me è la risposta che tante volte si dà alle domande che potete fare a un tecnico e dipende, no? Servono? Dipende. Bisogna farli? Dipende. Non servono a niente? Dipende. Tutto va modulato un po' sulla persona che si sta allenando. A me personalmente non dispiacciono. Mi piace sentire il lavoro localizzato su il muscolo che voglio andare a colpire. A volte con i fondamentali c'è un interessamento talmente generale che magari il focus è meno preciso nonostante ci sia. Però se poi al termine dell'allenamento volete andare a colpire i muscoli con un qualche movimento complementare che possa essere poi anche di supporto al fondamentale, perché no? Però come sempre va tutto organizzato, adattato un po' alle vostre caratteristiche, ma secondo me ci possono stare questi esercizi complementari di isolamento in un percorso d'allenamento mirato alla costruzione muscolare. Ecco, lasciatemi un qua sotto i vostri commenti, anche un po' inerente a questo tema. Sono curioso di andare a vedere un po' quello che pensate. Grazie per l'attenzione e mi raccomando spolliciate e ci si vede sempre qua sul mio canale. Un saluto, ciao! Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito www.umbertomiletto.com Ti metto il link qua sotto al video perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito! Grazie per la visione!